Il valore più importante di un performance report non è tanto il net profit e non è neanche tanto il drawdown o la regolarità dell'equity line o il fatto che ogni anno guadagni. No, 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 no. Il valore più importante è l'average trade. Però l'average trade dipende. È uguale per il DAX o per il corn e soprattutto quanto deve essere questo average trade così da farmi stare al sicuro. Quindi in questo video parliamo dell'importanza dell'average trade e degli average trade medi, necessari, minimi per categoria di future. Benvenuti a tutti signori in questo nuovo video. Io sono Francesco Buzzi, faccio fino a 16.000 dollari in un mese con poco capitale. Leva finanziaria inferiore a 30 e senza trucchi magici. Per scoprire come, link in descrizione o numero verde 80475300. Fino al 20 marzo puoi provare anche il mio nuovo composer gratuito composeritestallart.com Anche qua, link in descrizione. E se ti piacciono questi video, link al canale. Iscriviti al canale. Ok, ho finito di dire le cose. Partiamo. Average trade. Punto numero uno, che cos'è l'average trade? Beh, molto semplice di per sé. È il rapporto tra il net profit e il numero di trade. È proprio una cosa matematica banale. Adesso sto aprendo una... Sto aprendo una workspace così da farvi vedere le cose come stanno. Molto banale. Quindi è un semplice rapporto tra quanto il sistema fa di profitto e il numero di trade. Tu prendi i 150.000 dollari di profitto, li dividi per 1000 trade. Average trade 150 dollari. Perché è importante? Per spiegare perché è importante l'average trade, secondo me, posso farevi un esempio di un'azienda, un'azienda, un'azienda... Anzi, prendiamo due aziende, due ristoranti. Qual è il ristorante più ricco, il migliore? Il ristorante che fa un milione all'anno di vendite o il ristorante che guadagna un milione all'anno? Perché, vedete, la differenza è tutta lì. Magari quel ristorante fa un milione di vendite all'anno, ma ogni anno ha un milione di spese e quindi chiude a zero. In cassa, bigliettoni da 50 euro ne ha zero. Quello che guadagna un milione vuol dire che magari di vendite ne ha avute 3, 4, 5, 6, 7, 10 milioni, ma in cassa ha un milione di banconote da 50 euro, 100 euro, è per dire. L'average trade è la nostra garanzia di guadagno, il profitto netto. Ed è per questo che è fondamentale. Ma riguardo all'average trade, proprio per suonatura, è difficile. È una coperta corta, come dico io. Guardate qua. Questo è un performance report, classico, semplice. 220 mila dollari, 919 trade, 239 di average trade. L'average trade è infido e cattivello perché non posso avere questi tre valori sempre al massimo. Proprio perché l'average trade è un rapporto tra net profit e total numero di trade, non posso avere un sistema che fa 200 mila dollari, 2000 trade e 500 di average trade. Sarebbe perfetto perché ho validità statistica, tanti trade sono belli, tanto net profit è bello, l'average trade alto appunto è fondamentale. Ma non posso avere tutti e tre insieme. Posso avere solo uno dei tre che si alza un po'. È una coperta corta, è un triangolo dove uno influenza l'altro. E allora quando avrò un trading system da 600 di average trade, per definizione non potrò avere tanti trade. E questo è molto importante da capire. Ma come calcolare l'average trade perfetto? Che average trade mi serve? Dipende. Dipende soprattutto dal future, dallo strumento con cui lavoriamo. O meglio, dipende da due caratteristiche più una. Punto numero uno, serve sapere quanto è liquido quello strumento finanziario. Ti faccio vedere. La differenza è tra SP500 che scambia circa 2 milioni di contratti al giorno con, non lo so, succo d'arancia. Succo d'arancia scambia circa 400 contratti al giorno. Questa è una differenza che possiamo rappresentare così. Tu devi vendere questo telefono, ok? Per venderlo hai un singolo luogo. Piazza Duomo, la piazza centrale della tua città. Dove si ritrovano chi vuole comprare e chi vuole vendere. Vai in Piazza Duomo, lo vuoi vendere a 1000 euro e Piazza Duomo è piena. Piena, zeppa, è una cosa allucinante. Tutti a tappo delle sardine, è una cosa incredibile. Qualcuno vorrà comprare, qualcuno vorrà vendere. Tra quelli che vorranno comprare ci saranno 10.000 persone solo nella piazza. È facile trovarne uno che te lo compra a 1000. Ce ne sono talmente tanti. Per succo d'arancia è come stare in quella piazza lì, ma ci sono 3 persone. Piazza enorme, al posto di essere imbottigliato con migliaia di venditori, di compratore, un casino, ci sono 3 persone. Uno te lo vuole comprare, a 1000 euro non gli va bene. Lo vuole comprare a 900. Ti puoi rivolgere solo a quello e quindi lo vendi a 900, quindi ci perdi 100 euro. Questo è un po' il succo di tradare future liquidi con future non liquidi. Più il future è liquido e più sono tranquillo e devo lavorare meno con l'average trade. Su succo d'arancia devo avere un average trade perché è poco liquido, molto alto. 500 euro, dollari almeno. La seconda caratteristica che influenza l'average trade è il TIC. Cioè quanto spostamento minimo fa il mio future. Per saperlo ovviamente ci sono varie tabelle. Nel mio master ci ho messo tutte le caratteristiche dei future. Facciamo qualche esempio. SP500 per muoversi si muove di 12 dollari e mezza alla volta. In Nasek si muove di 5 dollari alla volta. Crudoi si muove di 10 dollari alla volta. Che ne so... Zucchero si muove di 11 dollari alla volta. Caffè si muove di 18 dollari alla volta. Come minimo spostamento. E più alto è questo TIC. Combinato da altri fattori. Ma teniamola semplice questa cosa. Più alto questo TIC, più l'average trade dovrà essere alto. Perché c'è il rischio slippage. Tu vai a mercato, non vendi o compri esattamente a quel prezzo. Ma leggermente sopra o leggermente sotto. Perché al momento non c'erano migliaia di persone pronti ad accogliere il tuo ordine. Quando slippi, quando scivoli sopra e sotto. Questo sopra e sotto è 12 dollari, 5 dollari, 20 dollari, 30 dollari. Più alto è il TIC. Più alto deve essere l'average trade. Quindi prendiamo qualche esempio. Su SP500 un average trade minimo potrebbe essere 180 dollari. Minimo. Più alto è, meglio è. Su Nasdaq 200 dollari. Su Euro 150 dollari. Potrebbe andare bene. Su Crude Oil 200 dollari. Potrebbe andare bene. Anche su Oro 200 dollari potrebbe andare bene. Su Korn date le sue condizioni. Potrebbe essere anche 110 dollari. 110 dollari. Che è molto poco. Facciamo un altro esempio. Su benzina deve essere almeno 250 dollari. Su DAX deve essere almeno 300 dollari. Su... Facciamo l'ultimo esempio. Ah, qua però non l'ho messo. Allora facciamo sul palladio. Su Bitcoin. Sul future Bitcoin deve essere almeno 500 dollari. Perché l'average trade ci permette di garantirci i guadagni. Ma c'è un ma grande come una casa. Un ma che influenza il tipo di sistema che fai. Ed è l'unico che spiega questa cosa in Italia. Mi spiace ma sono io. Perché ogni sistema che fai ha caratteristiche diverse. Queste caratteristiche diverse si riversano su altri aspetti. Sulla validazione. Sul portafoglio. Sono fondamentali. Ogni sistema è a sé. Questo è fondamentale. Nessuno lo capisce. Ma è cruciale. Tanto che poi anche per l'average trade è importante. Io ho detto su SP500 l'average trade minimo è 180 dollari. Può esserci un sistema di 130 dollari di average trade? Sì. Dipende dal tipo di sistema. Se faccio ad esempio un sistema naturale intraday, 130 dollari andrà bene. Se faccio un sistema di 600 dollari su SP500 troppo filtrato, a quel punto quel sistema sarà un sistema forzato. Gli studenti del master scocchierello lo chiamano forzato. E allora, nonostante sia un average trade alto, è troppo alto. Perché farà troppi pochi trade. L'average trade di per sé è solo un numero. Più alto è, meglio è. Ci garantisce i guadagni, ma tutto dipende dal tipo di sistema che stai creando. Può essere naturale, costruito e forzato. E queste tre caratteristiche coinvolgono il numero di trade, il numero di filtri, la longevità del sistema, l'impatto che avrà sul portafoglio. E da qui non si scappa. Non si può pensare di costruire un sistema, validarlo, metterlo live in un portafoglio ben diversificato, senza considerare che è un sistema naturale, un sistema diverso, un sistema forzato. Quindi anche gli average trade medi, minimi, che ho detto, possono essere insufficienti o possono essere troppo alti. Quindi dipende dal tipo di sistema. Spero che questo video ti sia piaciuto, abbia chiarito un pochettino l'importanza dell'average trade. Quanto cambia da average trade a average trade, cioè da future a future, e quanto sia importante capire il tipo di sistema che crei. Perché da lì dipendono, derivano tantissime cose. Se vuoi approfondire il mio metodo, link in descrizione. Se vuoi testare l'average trade senza scrivere codice in pochi minuti, gratis, cerca un pochettino in testella fino al 20 marzo. Link in descrizione. Detto questo, ci vediamo questa sera per un'altra diretta alle 7, se non sbaglio. O alle 6 e mezzo, alle 7, non mi ricordo più. Comunque, ci vediamo questa sera e venerdì e sabato con un nuovo video. Mi raccomando, buona serata, stammi bene, un buon inizio fine settimana perché te lo meriti. Dai e forza e ci vediamo. Ciao!